salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi come vi avevo promesso qualche giorno fa oggi volo doppio con mavic mini e mavic air 2 questo volo doppio dove andrò a mixare le clip dove le numererò e se voi mi direte l'ordine preciso con cui sono state fatte le clip cioè a numero 1 chi l'ha fatta la numero 2 chi l'ha fatta la numero 3 chi l'ha fatta quindi numero 1 per ipotesi mavic air clip numero 2 ancora mavic air clip numero 3 mavic mini che indovinerà l'ordine preciso quindi riconoscendo la clip video riconoscerà che il drone era filmata è il primo che mi invierà l'ordine giusto con cui sono state montate le immagini vincerà il mini drone della global drone quindi ragazzi è un giochino non difficilissimo però secondo me non sarà così facile perché comunque anche il mavic air oggi registrerà a 2,7k quindi entrambi i droni registreranno 2,7k 30 fps quindi la qualità video se vogliamo sarà uguale per entrambi anche se sono 2,7k non identici però non penso sia neanche poi così facile indovinare tutte queste clip quindi ragazzi spero che sia un giochino divertente e adesso senza perdere altro tempo decolliamo qui sul lago di lecco location più che carina con mavic mini e mavic air 2 ragazzi concentratevi e riconoscete le clip partiamo che carina con i droni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.